Gioca e vinci con noi! Quanto sprechi molte energie per difendere e correre dietro gli avversari, giustamente dopo pecchi un po' di lucidità, purtroppo siamo arrivati un po' corti anche come Rosa e avevamo squalificato il capitano Talevi e avevamo 4-5 infortunati in panchina che li ho portati giusto per far numero, quindi pecchiamo un po' dai! Un po' di inesperienza, un po' di lucidità sotto porta, però non devo recriminare niente, i ragazzi sono stati eccezionali!